Signore allo scherzo, questo appena è quello che è appena arrivato in casa, questo è un bombardamento, questa è la mia terrasta, la mia terrasta, stanno arrivando fuori da tutte le parti, le macchine, le macchine, le macchine, le macchine, guardate che roba, guarda, guarda, sentite, sentite il rumore, non capisco. Guarda, 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 sentite il rumore, guarda, 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 guarda cos'è sta roba, è allucinante, io ho paura, io ho paura, è pazzesco, ma hai visto una roba del genere, ma vedete di cosa, sentite, questa è Bologna, guarda, guardate, 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 sentite il rumore, Dio Dio. Grazie.